Una notte total white, poi l'appuntamento con lo shopping sotto le stelle. È tutto pronto per entrare nel vivo degli appuntamenti di questa calda estate a retina. Due quelli che animeranno il centro storico con la cena in bianco mercoledì 3 luglio in Piazza Grande e poi l'appuntamento con la notte bianca dello shopping nel primo giorno dei saldi estivi con tanti negozi aperti sino alla mezzanotte e il centro che diventerà una grande isola pedonale. Questo appuntamento del 3 luglio diciamo che è il clou della nostra estate. Un'estate cominciata alla grande con la festa di Pescaiola, domenica con la festa al Prato e alla fortezza del Toscano Arcobaleno e con la cena in bianco, la cena bianca, apre le porte del suo salotto, accoglie la città con uno scenario magico. Devo dire che gli aretini si sono abituati ad apprezzare, ad ammirare e che aspettano perché ci sono veramente prenotazioni al di sopra di tutte le aspettative e non da Arezzo e Bassa ma oltre regione. È molto importante questa settimana che va dal 3 al 6 luglio perché ci saranno tutte le sere delle attrattive con musica. Per finire poi il sabato, il 6 luglio, alla notte dello shopping, la notte bianca e voler puntualizzare proprio l'importanza dei negozi tradizionali, dei negozi di vicinato, di queste facce amiche che comunque professionalmente ti assistono e che hanno bisogno di essere frequentate da un pubblico, dal nostro pubblico. Un centro storico che sta crescendo molto, Arezzo è per il secondo anno di fila il comune che è cresciuto di più turisticamente in tutta la regione, questo ci inorgoglisce, vuol dire che il lavoro fatto sta andando bene, grazie anche proprio alle tante attività, ai tanti eventi che soprattutto anche di estate animano un po' la città. Quindi ora sta a tutti gli imprenditori, io vedo che sempre più stanno scommettendo finalmente anche nella parte alta, che negli ultimi anni sarà un po' svuotata, quindi avanti così è molto positivo e sono due eventi importanti per l'estate. Sono due eventi ormai iconici, collaudati, che animano il nostro centro storico, dimostrano di poter catalizzare l'attenzione di tanti visitatori, di tanti turisti, quindi una formula che funziona, una formula a cui la Camera di Commercio doverosamente dà il proprio sostegno.